Gesù sempre ci fa tornare a casa. Gesù mai ci lascia sulla strada soli. Anche nelle parabole quella moneta perduta è finita nel portafoglio della donna con le altre e quella pecora smarrita è riportata allo stavio con le altre. Perché Gesù non è venuto dal cielo solo, è figlio di un popolo. Gesù è la promessa fatta a un popolo e la sua identità anche è appartenenza a quel popolo che da Abramo cammina verso la promessa. E questi gesti di Gesù ci insegnano che ogni guarigione, ogni perdono, sempre ci fa tornare al nostro popolo, che è la Chiesa. Grazie. 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 Grazie.